Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Dopo il video pubblicato stamattina riguardo la pubblicazione del cedolino delle pensioni di dicembre 2022, sono diversi pensionati che stanno scrivendo sotto i commenti del video di essere impossibilitati a vedere il cedolino. Alcuni lamentano di non riuscire ad aprire addirittura il sito dell'Inps. Vediamo insieme le probabili cause nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Nel video di questa mattina annunciavamo la pubblicazione del cedolino delle pensioni di dicembre 2022. Sono stati diversi pensionati che hanno scritto di visionarlo correttamente, completo di tutto, ovvero di tredicesima, eventuale bonus 150 euro non ricevuto a novembre del decreto aiutiter, la quattordicesima per chi non l'ha ricevuta a luglio e l'aumento del 2,2% dato dall'anticipo della perequazione più lo 0,2% del conguaglio. Come dicevamo a inizio video però sono diversi i pensionati, come testimoniano nei commenti sotto il video pubblicato questa mattina, che non riescono a visualizzare correttamente il cedolino. C'è chi riesce ad entrare tranquillamente nella propria area personale Inps attraverso lo spido la carta di identità elettronica e trova solo quello di novembre e c'è chi invece non riesce addirittura ad aprire il sito Inps, ovvero una volta autenticati con le solite credenziali di identità digitali il sito rimanda a una pagina con scritto server non raggiungibile. Questo potrebbe avvenire per due ragioni, la prima è che l'Inps sta caricando tutti i cedolini e dunque il server risulta momentaneamente non raggiungibile per un aggiornamento della pagina, la seconda ragione invece potrebbe essere quella di un sovraccarico del sito in quanto troppi utenti cercano di accedere nello stesso momento. Questo accade spessissimo nelle pagine web soprattutto per eventi quali concerti quando migliaia di persone cercano di comprare per esempio dei biglietti tutti allo stesso momento. In ogni caso fateci sapere qui sotto nei commenti del video se dopo ore chi non è ovviamente riuscito a visionarlo stamattina lo visiona correttamente. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.